Siamo di nuovo insieme e vedete qua accanto a me c'è Bernardo Corradi Ciao Bernardo Ciao, buon poriggio Prima però di parlare di questo, parlare di campo vorrei che insieme a Matteo Masini Ciao Matteo Voi ci raccontaste di un bellissimo progetto che avete ideato, siete un gruppo che ha ideato un progetto che si chiama Sport for Love Esatto E che nasce come? Nasce fondamentalmente da un'idea condivisa e dalle esperienze vissute, di vita reale perché io chiaramente avendo fatto lo sportivo ho vissuto dei grandi eventi sportivi da protagonista però essendo molto concentrato sulla parte sportiva e quindi tralasciando tutto il contorno Matteo e gli altri soci invece hanno partecipato a grandi eventi da organizzatori Abbiamo individuato entrambi una necessità fondamentale che c'era credo che ci è saltata agli occhi e che aveva bisogno di una certificazione Il grande lavoro viene fatto dal mondo dei volontari di grandi eventi sportivi e non solo spesso era poco considerato Noi abbiamo cercato di accendere una luce, una lente di ingrandimento su questo tipo di lavoro che si rischiava che andasse disperso e allora abbiamo individuato questa piattaforma in grado di avere una doppia valenza da una parte dare giusto valore a un lavoro importante come quello del volontario sportivo dall'altra parte aiutare tutte le organizzazioni che devono intraprendere la difficile impresa di organizzare un evento ben fatto di riuscire ad avere un volontario che avesse uno storico e quindi attraverso il passaporto del volontario che abbiamo ideato riuscire ad avere una persona che avesse già esperienze e che desse la possibilità del primo approccio con l'evento sportivo di qualità cioè di un volontario sportivo che ha passione, che ha voglia di condividere determinati tipi di valori pur magari non facendolo in prima persona o sul campo come è successo come ho avuto la fortuna di fare io E che mondo è quello del volontariato sportivo? È un mondo vastissimo, Matteo ha dati alla mano Sì, diciamo che nelle stime ultime che ci sono sono 35 milioni i volontari che si attivano a livello europeo nel mondo dello sport e vanno da l'immaginario delle Olimpiadi, dei grandi eventi dove veramente ci sono delle strutture che fanno recruiting, formazione e i volontari sono il primo approccio sia per gli atleti che per quelli che sono gli spettatori poi c'è tutto invece quello che è il mondo del volontariato legato alle piccole e medie organizzazioni quindi il genitore che accompagna il gruppo di ragazzini E qui l'esperienza del genitore che accompagna io ho avuto la fortuna di partecipare sia da sportivo Esatto, quindi c'è ancora più entusiasmo in questo tipo di iniziativa Assolutamente, quindi l'idea era proprio quella di dare un progressivo riconoscimento di tutto questo lavoro che viene fatto e un luogo dove poterli far incontrare con facilità gli appassionati e quindi quelli che sulla nostra piattaforma sono i lover e gli organizzatori Che sulla nostra piattaforma sono maker No, la cosa che ci tengo a sottolineare è che la registrazione e la fruibilità dell'app è completamente gratuita e ci sono termini che ormai sono entrati di domino pubblico come username e password basta registrarsi e poi il volontario ha la possibilità addirittura di aggiornare il proprio storico con un verify da parte delle organizzazioni con le quali hanno partecipato di verificare che effettivamente quello che lui dice del suo storio sia vero quindi avere anche una qualità del volontario superiore riuscire a farlo prima di arrivare a un grande evento perché credo che poi il primo impatto che hai sia in una grande organizzazione sia mi viene in mente anche le gare da strada come maratone, le gare di ciclismo è l'approccio con la persona che ti aiuta a capire dove sei seduto, dove devi andare dove è il posto per refrigerarsi piuttosto che un bagno per riuscire ad andare in bagno sereno in educazione, in pulizia e nel rispetto dell'ambiente quindi credo che sia importante quindi questa piattaforma ti serve sia per queste organizzazioni e questi eventi per avere delle persone, delle figure che sono preparate sia dal punto di vista del volontario che si fa anche un curriculum sì, anche perché, scusami Matte poi questi sono dati che io sono venuto a conoscenza e uno spaccato che ho conosciuto anche grazie a lui un giovane che aggiunge al proprio curriculum la partecipazione come volontario è una grande manifestazione soprattutto dalle aziende visto chiaramente di buon occhio perché un giovane che, dal punto di vista del volontariato partecipa, ha capacità di stare in gruppo fare team building lavorare per uno scopo che sia un po' sviscerato da quello che è la remunerazione prettamente economica e quindi credo che sia una cosa positiva che aggiunga e che faccia propendere un'azienda se decide per una persona piuttosto che un'altra se è partecipato a grandi eventi Allora, tu già Bernardo hai detto un po' come funziona entriamo proprio nel dettaglio cosa si deve fare? Fondamentalmente ci si registra una volta che si è fatto una registrazione semplice quindi con un account si può scegliere il profilo se essere volontari oppure essere organizzatori una volta che si decide di essere volontari si crea il passaporto e si possono inserire tutte le esperienze pregresse quindi tutto quello che è stato fatto negli anni e richiedendone appunto come diceva Bernardo la certificazione oppure, passando dal lato maker si può creare la propria organizzazione sportiva di qualunque livello inserire a quel punto l'evento e tutte le posizioni che si vanno a ricercare mettendo delle deadline in modo tale da poter avere le prime risposte le candidature un gestionale che rende facile il confronto fra i vari candidati arriveranno degli alert chiaramente un'organizzazione vuole organizzare un evento per chi si vuole iscrivere arriverà un alert come dire fra sei mesi ci sarà questo evento ti vuoi iscrivere come volontario quindi è una roba veramente friendly a livello di... assolutamente anche perché poi il meccanismo dei volontari esisteva già sulle singole piattaforme quello che non esisteva era fondamentalmente la legacy di quello che alla fine dell'evento rimaneva dell'esperienza del volontario e praticamente si ricominciava da zero ogni volta oggi grazie a questa piattaforma l'idea è quella di creare un meccanismo per cui sia molto più semplice andare a trovare figure che hanno esperienze specifiche nei ruoli che andiamo a ricercare e soprattutto riusciamo a ricostruire con facilità quello che è stato il loro passato certo c'è un tracciato un CV appunto che poi ora io faccio un esempio macroscopico però che è alla portata di tutti una sorta di LinkedIn del volontariato sportivo con però queste possibilità che voi dicevate di una connessione immediata di avere un tracciato che resta e quindi di accedere facilmente sia da parte dell'azienda della società organizzatrice sia da parte di chi vuole partecipare a questi eventi perché poi spesso anche partecipare a un evento come volontario ti dà la possibilità anche di viverlo quell'evento esatto e questo è quello che ti ho detto all'inizio della nostra chiacchierata ho detto io ho avuto la fortuna di vivere un evento da dentro il campo e spesso non ho considerato la mole di lavoro che c'è dietro all'organizzazione di un evento poi andando magari con gli amici a vedere una partita o portando i miei figli allo stadio mi sono reso conto come succede nel mio mondo che c'è quella squadra invisibile dietro che poi rende perfetto un evento quindi ora Montali ci ringrazierà della squadra invisibile però è stato doveroso beh direi che la cosa difficile è trovare degli eventi perché in Italia non ce ne sono tanti guarda noi in Italia siamo famosi per parlare molto male del nostro paese e guardare sempre agli altri che vanno benissimo dal punto di vista sportivo credo che l'Italia sia uno dei paesi più vivi e quindi nell'organizzazione a breve di quello che sarà anche il convolgimento dei volontari vado così abbraccio e Matteo mi si inserirà se mi dimentico qualcosa c'è l'Europeo Andro 21 adesso alle porte successivamente ci sarà Cortina prima c'è Euro 2020 a Roma Cortina 2021 le ATP Finals dal 2021 al 2024 e poi 25 credo 25 non ero preparato però sulla Riders Cup sono preparatissimo perché l'ultima edizione a Parigi ha avuto una richiesta di oltre 4.000 volontari quindi insomma quindi un vero proprio esercito sì tutto in attesa poi di vedere come andrà la candidatura ovviamente olimpica sulla quale siamo ancora in ballo stiamo parlando proprio anche di grandissimi eventi assolutamente veramente a proposito voi dicevate delle ATP Finals non so se c'è Paolo Aghemo in collegamento con noi si è già pronto per raccontarci un po' questa giornata in cui c'è stata la conferenza stampa di presentazione no non è ancora sì no invece c'è pronto Paolo Aghemo ciao ci racconti un po' come è andata ci siamo Sara giornata piena particolare perché intanto vabbè qua sono lo stadio Filadefia perché poi oggi anche il giorno dopo Torino-Milan quindi c'è grande euforia nella parte Granata della città nell'ambiente Granata però questa è stata soprattutto la giornata della presentazione ufficiale al Palazzo Madame in pieno centro a Torino in Piazza Castello delle ATP Finals dunque c'era il presidente della federazione tennis lo abbiamo sentito Binaghi c'era la sindaca Chiara Appendito molto emozionata molto orgogliosa contenta perché questo è un traguardo sicuramente a livello sportivo grandioso grandissimo perché immaginarci gli otto giocatori migliori del mondo qui in Italia a Torino per una settimana è qualcosa di straordinario ma è un traguardo soprattutto che premia un sistema Italia un sistema paese riuscire a mettere insieme tante teste per raggiungere un obiettivo comune c'era Malagò il presidente del CONI che ha fatto un discorso che va proprio in questo senso quando si uniscono le forze le energie non ci sono più divisioni che tengono ma se si vuole raggiungere l'obiettivo lo si fa dunque grande emozione ma direi soprattutto grande voglia di iniziare già a lavorare da adesso per questo tipo di evento che coinvolgerà e forse questa è la differenza tra Torino che ha fatto anche propendere poi gli emissari dell'ATP su Torino il fatto di averlo scelta perché Torino sarà le ATP Finals e le ATP Finals saranno Torino tutta la città a disposizione delle ATP Finals con attenzione sarà tanti volontari che lavoreranno per questo evento appunto stavamo stavamo parlando perché ho detto a Matteo che io mi iscriverò anche io per fare il volontario siccome sono una passione di tennis se le ATP Finals sono un evento da non perdere quindi mi farò anche io il passaporto del volontario e parteciperò per cercare di stare il più a contatto possibile va bene io ho solo una curiosità ma c'è qualche evento che è più difficile da organizzare oppure che è più gettonato degli altri? sicuramente gli eventi mediatici diciamo così sono più gettonati basti pensare che UEFA per le finali di Champions League apre di solito le ricerche quasi un anno prima sulla città ed è davvero facile trovare in quel caso i volontari più complicato invece è magari su circuiti particolari come possono essere le maratone che ne hanno una grandissima richiesta oppure le gare classiche di ciclismo che avendo dei percorsi molto lunghi hanno bisogno di molte risorse e distribuite e distribuite su territori anche diversi e lo ricordo ancora una volta l'unica cosa che ci tenevo a ringraziare chiaramente perché ho sentito il presidente Malagò era presente ringraziare il presidente Giovanni Malagò lo stesso Diego Nepi e si sono adoperati per far sì che la nostra associazione avesse il patrocino del CONI insomma significa avere invoccato una strada giusta lo stiamo vedendo sport for love vi ringrazio per avercene parlato perché è veramente una bella idea